Il divulga fiore, informazioni verificate. Chi partecipa alla vita culturale del nostro paese? Ci viene in aiuto, evidentemente ci dà la risposta la Costituzione italiana, la quale prevede che il diritto alla cultura, nelle sue diverse forme e alla conoscenza, quindi al sapere, sia di tutti i cittadini. Tutti possiedono questo diritto e non solo. Stabilisce anche in che maniera, perché i soggetti pubblici e privati attivi in campo culturale ed educativo, quindi riferimento alle giovani generazioni, hanno l'obbligo, attenzione, è un dovere, devono, non possono fare altrimenti, rimuovere tutte quelle barriere che ne ostacolano il libero godimento. Quando quindi si riscontra che una barriera del genere esiste, non solo lo Stato, nelle sue diramazioni, ha l'obbligo di rimuoverle, ma anche i soggetti privati che sono attivi in questo campo. E naturalmente lo Stato deve garantire che tutto questo succeda, tutto questo accada. Bene, e forse la situazione nella quale ci troviamo oggi, lasciamo stare il fatto che dal gennaio 2020 la Costituzione è carta straccia e di fatto non esiste più. Ma anche prima le cose non andavano meglio. E quali sono i fattori che impediscono il reale godimento di questo diritto? Bene, certamente i divari socio-economici nei quali versiamo oggi, i divari fra i gruppi di persone che compongono la nostra società. È chiaro che la cultura costa e quindi chi non ha la possibilità e chi ha difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena difficilmente andrà a vedere una mostra in un museo. E poi c'è il digital divide, cioè la divisione che c'è tra chi utilizza i nuovi strumenti elettronici e chi invece non li utilizza. Per quale motivo? Perché intanto anche essi costano e costa la loro manutenzione, ma anche perché pur possedendoli a sua volta bisogna avere la conoscenza e bisogna saperli utilizzare. E non tutti queste competenze le possiedono. E allora, ecco che in questa maniera, viene limitata la possibilità di accesso, da un lato, ai processi di fruizione culturale prodotta da altri e dall'altro lato ai processi di produzione culturale, perché tutti hanno anche il diritto di produrre nuova cultura per la società. Ahimè, l'Italia versa oggi in questa totale situazione disastrosa. Iscriviti al canale e attiva le notifiche.